Visita www.caffiblitz.shop Le capsule Borboner Espresso, compatibili con macchina ad uso domestico Amarton Espresso, sono essenziali per chi non può fare a meno dell'aroma e della corposità del vero caffè napoletano. 5 Le miscele che propone caffè e borboni, riconoscibili dal colore della bustina contenente la capsula, blu, equilibrata e corposa, nera, densa e cremosa, oro, la tradizione del vero caffè in tazzina, rossa, densa e dal gusto forte e intenso, verde, il decaffeinato che non rinuncia alle qualità dell'espresso. Disponibili anche capsule per preparare divande calde come ginseng, espresso d'orzo, cortado caffè macchiato e tè al limone.